ciao a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale io sono alessia e sto già perdendo la voce e questo nuovo episodio della miniserie vita ecologica allora possessione passata poco fa infatti siamo ancora dove eravamo alla fine dello scorso episodio quando c'è arrivata la possessione volevo raccogliere la cera io più che i fagiolini o fagioli che siano quello che è ma non era pronta quindi ci accontentiamo e ne approfittiamo avendo le piante qua vicino casa a mamma abbiamo tutti per terra no raga io sta cosa devo ancora capire come funziona cioè io praticamente facendo nutri senza i soldi gli sto facendo un libera carica 300 libera raga 300 li fulmini non resta niente allora cosa facciamo in questo episodio niente continuiamo come abbiamo sempre fatto con i nostri obiettivi oggi veniamo anche promossi e passiamo al livello 8 e sono molto felice di questo nel frattempo lui continua a dirmi che io sto facendo candele sto facendo cose ma non è vero quindi va bene contento lui contenti tutti intanto noi facciamo un'altra candela perché no così aumentiamo il nostro numero di candele e andiamo avanti con l'abilità di fabrication che comunque dobbiamo portare al livello 10 quindi male non fa le piante qua sopra come sono messe qua ci sono solo i fagioli di soia disponibili ah no anche la cera di soia bene allora la veniamo a raccogliere da qua sopra che forse finisco un discorso e poi inizio un altro forse ci conviene piantarne un'altra perché almeno abbiamo più giro fenomeno dei dispositivi 200 simoleon 208 anzi allora 1025 tutta progettuale cosa vuol dire è una roba sì insomma che troviamo su casa boh allora noi ne piantiamo altre di questi fagioli anche se crescono solo cos'è che c'è scritto ah è stata in autunno adesso siamo in autunno quindi finita sta stagione raga non ce n'è più per nessuno vabbè ne approfittiamo finché possiamo ci hanno inviato una gratifica abbiamo sbloccato l'aspiratore di smog eccolo qua quello che vi dicevo l'aspiratore di smog questa è una di quelle cose che non ricordo se si sbloccano anche con l'abilità di fabbricazione oppure con questa tipologia di incarichi con buoni progetti inviati oppure con chiacchiere con persone del luogo l'aspiratore di smog è questa cosetta qua strafica che adesso facciamo fare a sara e io intanto vi dico sostanzialmente cosa fa questo aspiratore innanzitutto se sporco da qualche parte lo potete utilizzare per pulire purché sia nell'inventario del vostro sim ecco qua ci siamo è pronto e se c'è per esempio questo lavandino è tutto zozzo e no è semplicemente rotto scherzavo no e avete presente quando troviamo nei cestini le cose che sono tutte nere tipo c'era la cassettiera che era tutta nera il letto che era tutto nero e tutte quelle cose lì con quell'aspiratore invece di sostituirle quindi spendere soldi lei lo tira fuori lo punta fa e la cosa vi si pulisce e utilizzate solo parti di ricambio quindi un bel vantaggio se devo dire la verità adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di nero fabbrichiamo una parte di eco aggiornamento intanto così ci leviamo dalle scatole l'incarico e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di nero anche che poi magari non teniamo e che così vi faccio vedere come funziona adesso facciamo l'eco aggiornamento benissimo quindi fabbrica completato ok dobbiamo raggiungere anche il livello 8 di logica quindi dovremo tornare al nostro come cavolo si chiama no proiettore non è un proiettore telescopio non mi veniva ecco per esempio questo tavolino qua no dopo lo vediamo su quel tavolino lì o se ne fa tempo troviamo qualcos'altro così vi faccio vedere come funzia perché io la trovo una cosa fichissima infatti non vedevo l'ora che sarà potesse fabbricarlo intanto stiamo usando una delle 97 biciclette che abbiamo abbiamo più biciclette che speranza come si suol dire no non si suol dire così ma lo dico io quindi si suol dire così bene una parte per l'acqua aggiornamento torna sempre utile una parte per l'aggiornamento idraulico noi non disdegniamo nulla si lo so puzzi da far schifo porta pazienza tintura buttati ancora che è morbido e basta ok qui non ci offre altro e allora torniamo a casa un attimino facciamoci una doccia veloce ma porca miseria ma sti cosi hanno intenzione di morire ogni cinque secondi porca non è che ha nutrito gli scarabè vabbè una cosa alla volta sì lo so ma porca miseria hai la doccia qua è un partito preso perché la faccio tornare giù perché poteva benissimo andarsi a fare il bagno ma io le avevo detto doccia quindi lei deve farsi la doccia fine questione chiusa allora neanche gli scarabè abbiamo nutrito siamo delle persone orribili stiamo producendo un'eccedenza di energia elettrica posso dirti che non me ne frega assolutamente niente ho risulto volgare forse risulta una brutta persona ma del resto io sono una brutta persona quindi tutto regolare allora il tavolino in questione è questo qua che come potete vedere se devo trovare anche un posto dove metterlo lo mettiamo qua solo per farvi vedere come vedete tutto nero tutto sporco tutto brutto no noi abbiamo due soluzioni o lo sostituiamo e quindi spendiamo soldi che era quello che potevamo fare prima oppure lo ripariamo come vedete consumiamo 54 bucce di banana lei tira fuori il suo super aspirapolvere e ci ripara il tavolino voilà eccolo qui scusatemi ma io aspettavo questo momento che volevo fare la foto a sarà da utilizzare come copertina quindi in questa foto abbiamo sia gli scarabèi di sfondo scarabèi i grilli o cosa sono mi sembra stranamente compiaciuta comunque di ciò che sta facendo è il tipo finalmente vedete tipo come se succhiasse via lo sporco e ti ripristinasse la situa vabbè sono un paio di foto le abbiamo fatte intanto andiamo avanti lei fa briga e voilà il tavolino è come nuovo quindi non so neanche se tenerlo oppure no bah mettiamolo qua intanto era solo per farvi vedere come funziona me felicia per essere riuscita a farvelo vedere allora ceniamo con un tacos di pesce che dici spendiamo un simone basta perché mi sa che forse abbiamo del pesce in frigo probabilmente un pesce che ha visto giorni migliori ma noi siamo contenti vedete pasti a basso costo lei è la persona più contenta del mondo perché per farsi la sua cena ha speso un chez come si suol dire allora porca miseria con l'abilità di logica siamo a malapena all'inizio allora riusciamo a viaggiare subito è tardi lo so però cominciare magari a ottenerla questa abilità questo livello 8 anzi nel frattempo lei abbraccia sacchetti dell'immondizia la cosa che non si è ancora ben capita comunque quello è un altro discorso andiamo eccoci allora ci fiondiamo subito ad ammirare le stelle e facciamo quello che riusciamo prima che arrivi la possessione sarà sempre meglio di niente allora avendo tolto il blue bomb noi dobbiamo tenere d'occhio la situa da qua e abbiamo anche messo il tratto covo scientifico quindi dovremmo riuscire ad apprendere più in fretta come il solito e niente raga non ci resta che aspettare intanto abbiamo collezionato anche una stampa ma non c'è la musichetta quindi vuol dire che ce l'abbiamo già la ricicleremo mai paura intanto fra poco arriva la possessione siamo già al 30 facciamo 5 per cento eccola qua arrivata la possessione quindi non se fa niente che abbiamo vinto questa qua si ce l'abbiamo già mi sa che è anche la seconda o terza volta che la otteniamo questa stampa allora pianta una pianta bizzarra oh mio dio davvero basta devi aspettare prima di propagare altre piante bizzarre oh mio dio ne abbiamo piantata una e mezzo così scusate che è vedete che sono e no volevo farla girovagare per quello avevo cliccato ma non non sapevo potesse piantare piante bizzarre a caso non ci avevo mai fatto caso oppure è perché siamo sull'erba ma l'erba è solo uno spruzzino colorato non è davvero un cambio di terreno alla fine è sempre quello con altro colore boh raga non lo so bene continuiamo a mirare le stelle ancora un po dai tanto se anche torniamo a casa i cassonetti sono vuoti quindi facciamo gran poco più riusciamo ad avvantaggiarci meglio è ecco non so adesso arriviamo al 50 per cento magari un'altra stampa che abbiamo bene 50 per cento 50 per cento stasera e quindi ce la facciamo cos'ho premuto non lo so torniamo a casa va ok siamo rientrati allora a tempo perso un'altra candela ce la spariamo qua continua a dirmi cose che non so ci spariamo una candela che male non ci fa dobbiamo andare avanti quindi almeno cominciare a completare dei punti qua purtroppo non parte che non c'è elettricità mi sa che o l'hanno tolta cioè o l'abbiamo terminata noi o è la giornata senza elettricità boh lavora da casa cosa dobbiamo fare installare un dispositivo risparmio energetico ancora non so più cosa mettere risparmio energetico e usare un fabbricatore e guarda fabbricatore al momento mi è difficile visto che non ho energia e forse devo accumularne un pochettaina aspettiamo un attimino tanto abbiamo fatto un'altra candela non eravamo a 15 boh raga ho perso il conto non ci ho fatto caso prima allora risparmio energetico vi giuro non so più cosa mettere e proviamo a vedere se troviamo qualcosa o anche quel televisore lì ma mi sa che forse l'abbiamo già messo risparmio energetico stiamo generando un'eccedenza di elettricità mezzo secondo fa non ce n'era manco per i beati paoli adesso ce n'è anche per il cugino dell'amico dello zio del fratello o una cucina regressione quindi proprio brutta di quelle brutte 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 né e non credo di poterla mettere a risparmio energetico quella vediamo se la nostra è risparmio energetico quindi vedo se posso mettere l'altra uno sgabello basta finiti i giochi dispositivo risparmio energetico cosa cacchio posso mettere risparmio energetico di altro che ho in casa allora usiamo un fabbricatore e cosa gli facciamo fare a sto fabbricatore gli facciamo fare una parte per l'eco aggiornamento dai giusto per usarlo visto che è la missione del lavoro e vediamo un attimo il fornello se dispositivo è il suo amico energetico ma oh sì lo è molto bene molto bene molto bene tiriamo fuori i fornelli in questione li mettiamo qua giusto per averli fuori dalle balle finiamo di usare il fabbricatore ripariamo e poi lo facciamo a risparmio energetico così completiamo la missione e siamo a posto vieni a ripararlo sperando che non ti fulmini ok e aggiorniamolo dispositivo risparmio energetico non consumo parti ecologiche per una roba che non che non utilizzerò mai sto seguendo il vostro consiglio che mi avete detto di tenere ste robine per farci questi lavoretti nel momento in cui termino le cose in casa dove poterli fare niente abbiamo finito e quindi lo rimettiamo nell'inventario e lo teniamola ok allora nel frattempo la fame sopraggiunge e quindi le facciamo mangiare un taco saltofu che ci costa veramente uno scherz così lei è contenta di aver speso poco mangia e siamo tutti felici e contengi nei limiti io volevo trovare altre parti per la cucina perché adesso che più la guardo meno mi dispiace nel senso più mi piace mettiamola così che magari è infraintendibile più mi piace che sia diversa è un po particolare c'è questo che stona di più perché gli altri sono neri anche se sono di due serie diverse mettiamola così però tutto sommato magari ci stanno questo invece è l'unico che stona quindi quello sì mi piacerebbe cambiarlo e metterne uno che ci centri di più ah vedete che sono 15 le candele non ho detto una castronata ok qua non c'è cera qua ce n'è volevo farne un'altra giusto per averla oh sì qua c'è dai ti sei lavata voglio fare un paio di cosina prima di tornare a sviluppare la logica e provare a fare l'altro 50 per cento io faccio sempre la stessa candela per quello che mi frega cioè nel senso vi piacerebbe l'idea che tipo qua mettessi delle mensole e che purtroppo non le posso fare col fabbricatore e mettessi una candela per tipo di quelle fatte da lei quindi magari tutte del colore standard ma una per tipo finché non le abbiamo fatte tutte vi piacerebbe come idea io ci stavo pensando secondo me è carina dai ce la facciamo no scusate mi sta volevo guardare tutt'altro non so perché sono nata la siamo quasi a livello 9 di fabbricazione bene allora se finisci io ti mando di nuovo a vedere le stelle in tutti i sensi ok fatta allora andiamo perché preferisco tu venga promossa le candele le possiamo fare in un qualsiasi momento ma la carriera è importante progredirla e torniamo a san maishuno come abbiamo fatto prima e andiamo al al telescopio finché non sopraggiunge la maledizione ok tornati viene ad ammirare le stelle e vedi di muoverti anche ma c'è qualcuno dentro cosa sta succedendo perché non mi fa andare ok non so allora speriamo che ce la faccia prima della maledizione siamo al 55 infatti prima quando l'ho fermata al 50 ero sicura che sarebbe andata leggermente oltre un'altra stampa che abbiamo già quanto pare altrimenti avrebbe fatto la musichetta dai che secondo me ce la facciamo secondo me ce la facciamo comunque grandi cose non ci sono da aggiungere in casa noi stiamo sempre ottenendo la stessa stampa incoraggiante non abbiamo trovato granché o roba che ci mancasse quindi non tornerei neanche a casa per posizionare cose perché cose non ne abbiamo no dai vuoi dire che no per un pelo martin perse la cappa mi pareva si dicesse così vabbè allora sapete cosa facciamo piantiamo un'altra pianta bizzarra adesso ci ho preso gusto praticamente lei vomita i semi probabilmente sapete cosa facciamo siccome voglio assolutamente raggiungere il livello 8 di logica aspettiamo un attimino la sua possessione poi la facciamo tornare dentro facciamo quei tre secondi che le servono per arrivare al livello 8 e chiudiamo l'episodio intanto fra poco le passa io intanto la faccio camminare in giro per il mondo dai avvicinati ok benissimo tornati alla normalità finiamo un secondino e poi ci salutiamo ci tengo particolarmente a questa cosa si vede una stampa che già abbiamo sarà sempre la stessa di sicuro ok ragazzi livello 8 quindi qua siamo a posto in modo che abbiamo più possibilità di essere promosso e più in fretta e io per questo episodio vi lascio qua lasciate mi piace al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti